La carenza di posti auto è un problema comune a quasi tutte le città italiane, non importa di quali dimensioni. A Baveno si corre ai ripari. Nei giorni scorsi, infatti, sono terminati i lavori per l'apertura di un nuovo parcheggio. Da venerdì è infatti disponibile l'area di sosta tra via Gramsci e via Stazione. Un grande parcheggio gratuito, illuminato nel pieno centro della nostra città di Baveno, dice il sindaco Alessandro Monti, per un progetto a cui abbiamo lavorato incessantemente in questi mesi e che sarà a disposizione di tutti i nostri cittadini e anche dei numerosi turisti che verranno a visitare la nostra città. Conclude Monti, ringrazio sentitamente la famiglia Zacchera per la collaborazione e per aver concesso l'area ad uso gratuito. Un centinaio sono i posti auto che sono stati ricavati nello spazio disponibile. Grazie.